Il giorno oggi è giovedì 3 ottobre. Il Vangelo è in linea perfetta con il tema che la Chiesa ha scelto di vivere in questo mese missionario, battezzati e inviati. La missione non è una chiamata particolare di qualcuno, magari qualcuno che è più portato, è più carismatico, no. Il Vangelo ci mostra oggi che la missione, l'annuncio della salvezza, la gioia del Vangelo è lo stato costitutivo di ogni cristiano, di ogni discepolo di Gesù. Il Papa ha iniziato questo mese missionario proprio dicendoci che non si può vivere una vita cristiana chiusi in sacristia. È giusto, la fede o è missionaria o non è fede. Perciò se siamo battezzati in Cristo tutta la nostra vita è chiamata a dire Cristo, a predicare il Vangelo. E il testo di questo Vangelo ci indica proprio questo invio e specifica un numero preciso per quantificare gli inviati. Sono 72, un numero multiplo di 12 che rimanda al numero delle genti abitanti la terra secondo la tavola delle nazioni scritta in Genesi capitolo 10 nella versione greca dei 70. Questo vuol dire che l'invio in missione è per tutti. Se infatti nel Vangelo di Luca i 12 erano già stati inviati nel capitolo 9, quindi prima, perché rappresentano le tribù di Israele e quindi il popolo ebraico, ora proprio quando Gesù, l'abbiamo visto ieri, prende la ferma risoluzione di avviarsi verso Gerusalemme e quindi quando ha nel cuore e nella mente il fine della sua missione, cioè il dono di salvezza per tutti, ecco che sente che la sua missione è chiamata a dilatarsi nel mondo, a espandersi. Per questo ha bisogno di chiamare e inviare non solo i 12 ma anche altri discepoli come completamento ai 12. Gesù stesso li designa e li invia, proprio come aveva fatto con gli apostoli. Si tratta dunque di una scelta precisa di Gesù che è per tutti e di un invio che è la forma che assume la scelta di Gesù per tutti. Allora oggi possiamo ricavare alcuni elementi importanti per iniziare tutti insieme come chiesa, come comunità cristiana, come singolo battezzato questo mese missionario. Innanzitutto il Vangelo parte non con un inutile discorso di Gesù che crea illusioni ma con un avvertimento realistico che vale sempre in ogni tempo e in ogni situazione in cui Dio ci metterà ad annunciare il Vangelo. Ed è questo, il numero degli operai sarà sempre piccolo rispetto al grande bisogno che c'è di Dio nel mondo. E qui Gesù ci indica non una strategia particolare per uscire da questa minoranza ma una via molto preziosa che ci sarà sempre utile nella nostra vita di inviati e di missionari. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe, sono le parole di Gesù. Ed è proprio vero perché non servono strategie o pubblicità particolari, si evangelizza per attrazione e per attirare le anime a Cristo. L'unica cosa che si può fare è pregare, non ci sono altre soluzioni, pregare e andare ci dice il Vangelo, uscire, varcare la porta di casa col sorriso, con il cuore in pace perché nel cuore c'è la preghiera. E poi Gesù ci consiglia anche di vivere in sobrietà con spirito di adattamento, cioè di sacrificio, per valorizzare non le nostre idee, i nostri discorsi e nemmeno i nostri guadagni, i nostri soldi, ma i gesti umani più semplici come quelli del mangiare e del bere in una casa, perché la semplicità comunica il Vangelo. Chi non accoglie il Vangelo, facciamoci caso, non accoglie la gioia della vita semplice ed è così che si mette in pericolo perché nel suo cuore resterà solo. Il cristiano invece troverà sempre una via per uscire dalle scuse, dalle pretese, dalle rivendicazioni, perché conosce la via di Gesù e si saprà sempre abbassare, saprà farsi piccolo e non perderà tempo nelle contese che lo potranno condannare solo alla solitudine. Essere cristiani è essere inviati a costruire amore, fiducia, bellezza. Allora oggi lasciamoci inviare da Gesù, come hanno fatto i 72 discepoli, andiamo con gioia a incontrare gli altri, sorridiamo a questo mondo che troppo spesso si lascia opprimere dallo spirito di morte. La nostra fede in Cristo risorto non può che inviarci a liberare la speranza e la gioia in chi ci sta vicino. Dal Vangelo secondo Luca capitolo 10 versetti 1 12. In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per ricarsi. Diceva loro la messa è molta ma gli operai sono pochi, pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe, andate. Ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi, non portate borsa né bisaccia né sandali, non salutate nessuno lungo la strada, in qualunque casa entriate prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando, bevendo di quello che hanno perché l'operaio è degno della sua mercede, non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo davanti, curate i malati che vi si trovano e dite loro è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite anche la polvere della vostra città che se attaccata ai nostri piedi noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.